La guida Pizzerie d'Italia 2020 vede all'interno anche Giuseppe Maione di Daniele Gourmet di Avellino. Che premio ha avuto questa mattina? Due spicchi Gambero Rosso. Che cosa vuol dire per lei aver vinto un premio dal Gambero Rosso? Sono tutti obiettivi belli da raggiungere, diamo sempre importanza a quello che facciamo nel nostro locale, a quello che offriamo ai nostri clienti. Sono soddisfazioni personali queste ovviamente da farne tesoro e da orgoglio. All'interno del suo locale che cosa offre? Si chiama la pizzeria Daniele Gourmet. Quindi anche all'interno della proposta lei propone appunto pizze gourmet? Si, diciamo la proposta è pizze gourmet che poi nel tempo diventano pizze mie perché sono create da me. Amo molto, al di là che parto con un disco di pasta con solo farina di tipo 2, quindi ingredienti farine non raffinate, ho elaborato il territorio sulla pizza. In effetti tutte le aziende, le eccellenze della Campania, anche parte d'Italia, stanno nel mio locale. Il bello è abbinare e sapere abbinare i cussi all'equilibrio delle pizze.